Ciao, allora giveaway perché chi fa giveaway il primo dell'anno, questo giveaway riguarda le nuove, erano nuove, giveaway con in palio le nuove palettine della Neve Makeup. Vi faccio vedere subito le palettine, vi metto anche il link del video che ho preparato per loro, due video che ho preparato per loro sul loro canale in modo che possiate vedere le palettine, come le uso e vedere un pochettino i colori. La prima palettina in palio è la palettina degli scurissimi, la seconda palettina è la palettina degli intensissimi, capirete perché, questa è la palettina degli intensissimi, e infine la terza palettina in palio è la palettina dei chiarissimi. Allora, siccome le palettine sono tre e non volevo avere tre vincitori o tre vincitrici invece di dare tutte e tre le palette ad una persona, come faremo? Allora, questo sarà un giveaway con il sorteggio random, quindi il commento sarà sorteggiato tramite random.org. La prima persona che sorteggerò potrà scegliere quale palette preferisce, non so, ad esempio preferisce i chiarissimi, la seconda persona farà lo stesso e la terza persona ovviamente riceverà la palettina che le altre due non hanno scelto. Cosa dovete fare? Allora, potete lasciare un massimo di tre commenti, non più di tre commenti, mi raccomando. Avete tre giorni, quindi tre palettine, tre giorni, tre commenti, il commento può essere sempre lo stesso, ripetuto tre volte, potete lasciare tre commenti uno dietro l'altro, potete lasciare un commento al giorno. L'importante è appunto che non siano più di tre commenti. Cosa voglio sapere? Fatemi sapere quali sono i vostri buoni propositi per il 2011. Cosa volete? Non so, volete mettervi a dieta? Oppure volete essere più attive nel volontariato? Oppure, non lo so, volete colorare i capelli viola? Mi raccomando, date un'occhiata sotto al box info dove aggiungerò ulteriori informazioni. Una cosa che voglio dire, che ogni volta mi dimentico, ma che succede sempre, non mettete i commenti per il giveaway sul canale, sulla pagina principale del canale. Perché quelli purtroppo non sono validi e ogni volta li devo cancellare perché sennò più persone vedono quei commenti e più persone si sbagliano e lasciano i commenti sul canale. I commenti vanno qui sotto, sotto a questo video, ma non nella pagina principale del canale, quella dove c'è il mio banner con scritto Make Up The Light in alto. Mi sarò spiegata? Sicuramente no, non ci ho capito niente neanch'io. Altra cosa, siccome ultimamente sono... Se riesco a fare video li faccio, però a volte passo diversi giorni, passano diversi giorni in cui non posso fare video, perché voi lo sapete, quando riesco a fare video ne faccio più video durante il giorno che poi carico durante la settimana e così via. Siccome so che ogni volta voi siete assolutamente impazienti, non appena io chiudo il giveaway, già un minuto dopo c'è qualcuno che mi chiede, ma chi ha vinto il giveaway? Quindi, se non dovessi riuscire a fare un video con i nomi delle vincitrici o dei vincitori, date un'occhiata al blog o date un'occhiata su Facebook, perché cercherò, se non dovessi riuscire a pubblicare, a fare un video, cercherò di fare l'estrazione al più presto e pubblicare i nomi o su Facebook o sul blog. Quindi mi raccomando, mi raccomando, Facebook e blog per sapere chi ha vinto queste palettine. Ovviamente un bocca al lupo, un bacio grosso, auguri!